Oggi siamo in compagnia di Andrea Pasotto di Roma Servizi per la Mobilità, con lui andiamo ad affrontare il tema importante della figura dei Mobility Manager. Andrea? Il Mobility Manager è il responsabile della mobilità aziendale, quindi è una figura molto importante per le aziende e per gli enti, in quanto si occupa della tematica degli spostamenti di casa lavoro e quindi promuove le azioni di mobilità sostenibile in tal senso. Per Roma Capitale è una figura centrale, tant'è vero che nel Pums è identificato il ruolo strategico del Mobility Manager che funge proprio da snodo tra l'amministrazione di Roma Capitale e le aziende, quindi tramite esse anche con i dipendenti. A Roma abbiamo più di 200 Mobility Manager che contano circa 320 mila dipendenti, quindi una rete molto strutturata, a cui abbiamo di recente affiancato anche la figura del Mobility Manager scolastico, proprio per trattare tematiche di mobilità, casa, scuola, per gli studenti e personale. E in questo periodo storico di Covid, quali sono state le iniziative che avete portato avanti? Sì, tramite la rete dei Mobility Manager abbiamo potuto attivare delle importantissime campagne sulla mobilità post-Covid, quindi confrontandola ante-post-Covid e quindi anche le azioni sullo smart working e sull'elasticità degli ingressi e l'uscire nelle aziende. Questi dati sono stati indispensabili per trarre i nostri modelli di simulazione. Adesso abbiamo attivato dei tavoli con i Mobility Manager per affrontare tematiche strategiche come la sharing mobility, lo smart working, la ciclabilità, problematiche connesse al TPL, sono tutti temi che grazie a questi tavoli verranno affrontati a breve e risolto. Ma possono partecipare tutte le aziende a questi tavoli? Partecipano le aziende che hanno il Mobility Manager nominato, quindi è assolutamente importante la nomina e grazie alla figura del Mobility Manager che è un professionista che ha una competenza specifica in materia di mobilità si possono affrontare in maniera corretta le tematiche di mobilità. Quindi diciamolo, è importante che un'azienda abbia la figura del Mobility Manager in modo da poter partecipare ai nostri tavoli e quindi anche essere aggiornati su tutto quello che c'è da sapere rispetto a questa figura. Grazie, grazie Andrea Pasotto e noi ci vediamo presto, tanto la settimana della mobilità è appena iniziata, abbiamo una lunga settimana di incontri. Grazie.